Fra Gianfranco Priori e frate Cappuccino, ma diciamo così, come servizio alla gente, ai ragazzi e ai bambini, fa un servizio straordinario, ma non solo ai bambini, ai ragazzi, a tutti, che è quello dell'illusionismo, diciamo così, di tutta una serie di giochi, di prestigitazione, molto interessanti. Ecco, tutto questo si lega molto bene quest'anno col tema del festival, che è quello della gioia, della felicità, della letizia. Sì, il problema bello è che la tematica è tipicamente nel tempo di Papa Francesco. Francesco ha voluto prendere il nome di San Francesco perché nella sua Evangelii Gaudium Papa Francesco ha detto noi dobbiamo uscire e comunicare il Vangelo della gioia. E quindi tutti gli strumenti che possano far sorridere, rappacificare, riconciliare, far vedere una chiesa che tende la mano di misericordia. E' questa la tematica, la porta grande che ha aperto Papa Francesco al mondo contemporaneo. Ognuno porta il suo piccolo contributo. Anch'io cerco di portarlo con i miei colori, con quello che il Signore mi ha dato. Lo porto ovunque, soprattutto non può mancare a un festival, liberi per la gioia, perché tramite il gioco, il bambino, le persone capiscono che il sogno è possibile. Dentro il cilindro oscuro della vita c'è sempre un sorriso, un arcobaleno. I musi lunghi ci sono in giro, ma si possono trasformare in sorrisi per gli altri. Se noi francescani riuscissimo, nelle nostre strade, con la nostra semplicità, sull'onda di Papa Francesco, a dire la pace, la gioia ti inondino e far sì che da quella oscurità della vita nasca qualcosa di nuovo, qualche piccolo contributo l'abbiamo dato. Senti, qua c'è un'immagine tua col Papa, con Papa Francesco. Quando l'hai incontrato e che cosa vi siete detti? Sì, veramente l'ho incontrato, era il 7 aprile, ma tenevo per me queste immagini, ma dopo qualche mese se ne ha impossessato qualche giornalista e ha detto, ma questa è storia, è storia nel senso che il Papa sorride, il Papa benedice e ci dice andate alle periferie con tutti i colori, io avevo un mazzo di corde, un mazzo di carte e il Papa benedetto le corde, le carte e un fazzoletto. Per noi che viviamo così alla periferia, con tanta gente, avere la benedizione del Papa significa che ci mettiamo più forza, ci mettiamo, questo significa non è mai la benedizione la giustificazione, mai. È il Signore che ti accompagni nel tuo umile servizio alla Chiesa e ha benedetto, ha sorriso e veramente è un trascinatore che ci dite andate, evangelizzate. Senti, delle volte la parola magia è associata a qualcosa di oscuro, di negativo, eccetera, invece la tua interpretazione qual è? Il Papa mi ha detto, tu sei un mago, io cercavo di dirgli, faccio il prestigiatore, faccio l'illusionista, tu sei un mago, perché? Perché la gente ha il fiuto, se c'è sorriso oppure ci sono ben altre cose, per cui un prestigiatore, un illusionista che fa una festa, gioiscono i bambini, gioiscono tutti, è un messaggio positivo. In fondo si può ancora oggi, ci si può stupire, in un mondo dove non ci si stupisce più di nulla, se qualcuno porta un po' di stupore e arte. La bellezza anche della nostra arte è che non esiste lo strumento truccato, la tecnica, esiste uno che si serve di quegli strumenti per comunicare se stessi. Allora è arte, l'arte è a se stessi, usi cabaret, usi qualsiasi cosa, teatro, commedia, ma l'importante è esserci dentro, dentro la carta. Ci sei tu che ridi, fai sorridere, fai attendere, dai i momenti al pubblico e il pubblico alla fine parte, ho ricevuto qualcosa, perché non l'ha ricevuto dalla carta, l'ha ricevuto da chi è dentro la carta. Ecco, questo cerchiamo noi di approfondire in modo che non sia il vuoto. Ecco, Papa Francesco vuole che noi siamo protagonisti, usiamo di tutti gli strumenti, ma mettiamoci il cuore. Questo è il desiderio profondo, ma guai se si evangelizza senza cuore. Grazie.